Ciao a tutti da Jota e bentornati sul canale questa sera si avete capito cooking simulator e continuiamo col secondo giorno con il tutorial ok allora serve il piatto dobbiamo fare la trota quindi prendi trota condisce allora andiamo trota no questo è il filetto no 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 apri apri permesso è rimasto incastrato trota poi bisogna mettere la trota qui questo cos'è questo lo mettiamo si può mettere nel frigo ma torna che ha combinato si può mettere nel frigo ah lì c'è il limone vabbè mettilo qua allora la trota si fa pepe nero timo e aneto allora pepe nero giusto non ce n'è sale no pepe nero allora iniziamo pepe nero pepe nero e pepe nero allora pepe nero aneto non l'ho mai mangiato e non so cosa sia penso che erano 5 grammi vero si 5 grammi e il timo timo no però le macchine che passano ogni 2 minuti e suonano no eh cioè veramente perché ti è venuta questa idea di mettere le cose poi metti in una teglia al forno cuoci per 90 secondi raffano essiccato condisci con raffano essiccato trasferisci su un piatto e servi bollente ah ok questo me lo ricordo allora qui che non si può mettere perché questo dobbiamo fare così ok e lo mettiamo al forno e lo accendiamo per circa 90 secondi non sono mai veritieri 90 secondi q w w e ok nel frattempo se non mi ricordo male c'era il limone limone 80 grammi in quarti da 20 trasferisci sul piatto ok limone grazie limone ok coltellazzo adesso stai fermo eh cosa ho fatto allora bello questo taglio facciamo così così e poi no girati a ruotare scusami ruota attorno ah così madonna ma cambia comandi sempre sto coso ok perfetto poi prendiamo un piatto base e ci mettiamo 1 2 3 e 4 e lo mettiamo qua poi poi raffano essiccato spicchi di limone foglie di prezzemolo fresche 6 grammi quindi il rafano il rafano il rafano il rafano ma una di queste quant'è ah più o meno rafano rafano essiccato è questo ce lo mettiamo qua da parte uso nazzo questo è pronto spegniamo apriamo adesso prendiamo il piatto direttamente guarda ecco il piatto prendiamo questa andiamo qui questo lo chiudiamo perché non ci serve poi togliamo la teglia magari e prendiamo il rafano quanto ne vuole di rafano 5 grammi rafano su questo guarda 1 2 maghello ora di punta 3 4 e 5 5 bravo e poi i questi allora ma non ci posso andare col piatto direttamente scusami aspetta perché mi sa che qua si può andare col piatto no quindi 1 2 e 3 servi il piatto guarda che bel piatto che ho fatto stavolta e vai direi che questa volta ci siamo e devi imparare le basi abbastanza veloce puoi chiedere che facciamo allora voglio che questo posto invece di avere 0 stella cosa come lo facciamo allora devi farcela tu ogni piatto deve essere influenzare i punti fa fa la bene mostri che cresceranno rovina la perderemo tutto va bene ma non è tutto per ottenere una stella di fama dobbiamo attirare il critico culinario ok ecco il tuo primo compito deve ottenere un punteggio di fama 30 impressionante raggiunto la quota quota continua così e faremo il critico culinario è una buona idea andare oltre la quota per avere un po di spalmi a caso wow ce l'hai fatta il critico culinario vuole assaggiare i tuoi piatti domani impressione la stella di fama sarà che non si può non suonate per favore basta clacson quando verrà il cuoco concentra il sul tuo ordine otterrà il meno 4.0 stelle l'ispezione è una buona opportunità per diventare famosi di pronto finalmente non ci sono le macchine che boh boh pipipipi ok aumento profitto di piatti aumento ricompensa missione decorazione per cucine costano e meno no aumento esperienza allora liquidi economici direi di risparmiare su liquidi di comprare questo poi ricette economiche comprare aggiornare le ricette costa di meno le spezie costa di meno più mance quanti punti c'ho un altro riparazione veloci eventi più facili il gusto di piatto è aumentato di 10 no aspetta fase pulizia prolungato l'altra fase pulizia prolungato è fuori tempo prolungato il tempo di piatti fuori tempo è prolungato no 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 tolleranza di gusto esatto scegli una ricetta penso che dobbiamo ampliare il nostro menu guarda il piatti sotto e scegli il tuo preferito no basta per l'amore borscht ucraino facile no 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 costolette di maiale con patate bollite oh ma vuoi mettere cioè vuoi mettere di mangiarti sta schifezza con invece questo cacchio quando vedi delle costrette di polo di maiale cosa fai te le mani no quindi costretti di polo di maiale si fanno così sale pepe timo sempre solito aggiungi una padella al girasole costretti di maiale friggi ogni lato per 90 trasferisci su un piatto e le patate praticamente è uguale a quella di prima abbiamo già fatto una cosa del genere con il salmone vabbè e come si fa così ok puoi andare al negozio o alla dispensa per trovare le costrette di maiale giorno 3 ma questo lo so che è corto questo gameplay ma mi piacerebbe portare tutta il giorno 3 in un unica in un unico video e secondo me sforiamo un po' quindi direi che per oggi è tutto con questa bella canzoncina sottofondo ballereccia e ci vediamo alla prossima e un grazie di cuore come sempre siete medici e alla prossima bye bye